Ehi, ha sempre da dubitare perché cosa vuoi mai, perché in questa occasione non è mai tranquilla, è piuttosto presente... Guarda che se c'è ancora il lago, sto facendo un filmato, tacci, perché se no se sento tutto... Eh, se non lo dico... Eh, beh, non so, eh, l'ho detto adesso. Ho provato a fare un filmato, se viene... Eh, basta che non lo fai vedere a Fabio, mentre è a posto. Eh, eh. Adesso sono in pausa, anche i filmati sono belli così, ho fatto uno in macchina tutto, era bello, perché avevo proprio, avevo ancora la fotocamera, avevo una cosa, una Canon che faceva anche le cassettine, no? Sì, sì, filmatini. Sì, sì, analisa, certo. Ho detto così per... Certo, capito? C'è anche tradizione. Per altro. Sì. Stop, stop, stop... Strat... Strat... Eh, che è quella galleria. Tacci che faccio, esco dalla galleria. La faccio dopo, forse dopo c'è ancora un pezzettino. Faccio da limone a riva. Peccato che ho perso la vela. Qui c'è la galleria. Qui c'è la galleria. Ciò che diede. Qui c'è ancora e mi piace. Question. Come? Grazie a tutti.